Una vasta area di aria fredda in quota staziona sul Mediterraneo, determinando condizioni di instabilità sulle regioni meridionali e sulla Sardegna. In Toscana martedì 16 ottobre cielo nuvoloso, con possibilità di piogge sulla costa, anche forti dal pomeriggio sera. Venti di scirocco fino a moderati sulle zone meridionali, deboli orientali sulle zone centro-settentrionali, mari poco mossi in aumento a mossi dal pomeriggio, temperature minime in aumento, massime stazionari o in lieve calo. Cielo nuvoloso coperto su tutto il territorio provinciale. A Lucca nella Piana temperatura minima 15, massima 24 gradi, a Castelnuovo e zone montane minima 12, massima 24, a Viareggio e sul litorale minima 16, massima 25 gradi. Grazie per la visione!